E' un giorno importante perché inauguriamo stamattina due nuovi hangar e un piazzale. E questo ci consente di mettere a riparo sia la TR che due elicotteri di nuova generazione, avendo istituito qui su Pescara, proprio nel mese di novembre, la nuova sezione elicotteri della Guardia Costiera. Un'altra cosa importante è quella della capacità che adesso avrà la Guardia Costiera di intervento. In questo contesto la TR viene anche utilizzata per i controlli dei fursi migratori provenienti sia dall'Egitto, dalla parte medio orientale, sia dal Nord Africa. Ma non è solo questo, c'è tutta la parte tutela ambientale che penso che sia la cosa fondamentale. Vorrei infatti ricordare che il nucleo aereo, il reparto di volo, qui nasce nel 1990 in due momenti particolari. La mucillaggine in Adriatico e l'inizio dell'immigrazione dall'Albania. Ecco, sostanzialmente il cuore, diciamo così, l'attività principale di questa componente riguarda proprio questi aspetti. Cioè la tutela dell'Adriatico, in generale del Mediterraneo e nello stesso tempo il soccorso nei confronti di tutti coloro che hanno bisogno. Ecco quindi che tutto si ricollega in un puzzle che fa della Guardia Costiera un elemento, un'organizzazione certamente molto ma molto importante per tutti questi aspetti.